Federico Fornaro, oggi la firma del protocollo per lo scalo di Alessandria è veramente la svolta? Quanti passi servono ancora? Beh, servono ancora molti, ma come ha detto il sindaco Abbonante, è un inizio, è un nuovo inizio, c'è un'attenzione forte e credo che se si riesce a costruire un lavoro di squadra che parte da Roma, scenda ovviamente per Ferrovie dello Stato, le sue partecipate, RFI, gli enti locali, si possa arrivare a dare finalmente una nuova vita, una seconda vita allo scalo di Alessandria, lo diciamo da tempo, da tempo siamo stati tra coloro che hanno sempre sottolineato il fatto che il terzo valico non poteva non avere anche delle ricadute positive sul nostro territorio. Grazie.